Si è fatto attendere, ma l'inverno alla fine è arrivato, portando con sé la tanto attesa neve. Tanto che domani, 19 gennaio, la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale ha emesso un'allerta meteo gialla, proprio per i fiocchi che cadranno copiosamente, anche a quote più basse. Ecco allora che è necessario ricordare alcuni consigli utili. L'obbligo innanzitutto di avere le dotazioni invernali per le auto, ovvero pneumatici invernali o quattro stagioni o cadene a bordo. È consigliato indossare abiti e soprattutto calzature idonee e fare attenzione, in caso di spostamenti in bicicletta, ai tratti nevati o ghiacciati. Il ritorno della neve è una buona notizia, invece, per i gestori di impianti sportivi e per gli appassionati degli sci. Riapriranno infatti nel weekend le strutture di careggine.